Antonella Palladino, sabato 25 marzo, il Parco Natura Avventura Archeo si apre al pubblico e lei ce lo presenta. Sono contenta di presentarvi un'opportunità importante per il territorio. Questo territorio era da bonificare e grazie a questo finanziamento siamo riusciti a renderlo fruibile non solo ai cittadini di Tortora, di Praia e di Aieta, ma a tutti coloro che vorranno avere un'opportunità diversa per visitare le nostre zone. L'area è strettamente connessa al colle del Palecastro, è facilmente raggiungibile perché è in una posizione che connette la marina con il centro storico e quindi facilmente possiamo promuovere questa nuova tappa come fase intermedia di un itinerario più importante fra il Lido, quindi la marina di Tortora e il museo archeologico di Blanda. Il progetto ha come finalità generale la valorizzazione del patrimonio naturalistico, archeologico e storico, culturale dell'area dei comuni di Tortora, Aieta, Praia e Mare, con un focus sul percorso della fiumarella. Ma chi si recherà all'interno di quest'area cosa trova? Allora innanzitutto mi aggancio all'introduzione, in effetti il nostro partenariato si allarga ai comuni di Tortora e di Praia e Mare che ringrazio per la collaborazione. La fiumarella è un focus importante perché abbraccia un territorio con una grande valenza storica archeologica. Questa parte del finanziamento è stata dedicata più a quest'area, appena riceveremo il saldo del finanziamento perché ancora non abbiamo ricevuto il saldo, ci dedicheremo nell'ultima parte, cioè quello che è il percorso che costeggia la fiumarella stessa, cercando di bonificare quello che c'è possibile, farlo con le cifre che ci sono rimaste, e creando delle piccole aree di sosta proprio per spiegare ancora meglio ai turisti o a chi volesse praticare anche del trekking escursionistico di fermarsi lungo questo corso d'acqua molto importante. Il parco è stato pensato per salvaguardare le specie naturalistiche della macchia mediterranea. Infatti abbiamo all'interno un piccolo giardino botanico, il giardino di Demetra, le cui piante sono state archiviate, catalogate. Grazie alla collaborazione di giovani agronomi è stato possibile stabilire, conoscere meglio le nomenclature originali di queste piante. Abbiamo quindi creato una sorta di catalogo che può essere fruibile sia dagli enti che dagli stessi studenti, oppure università o quant'altro. Naturalistico per questo, archeologico e storico, perché siamo comunque in un'area archeologica, i nostri laboratori, quelli che coinvolgeranno le scuole, gli utenti che furiranno di questo parco, saranno focalizzati su simulazione di scavo con i laboratori del piccolo archeologo, costruzione di monili attraverso l'argilla, la ceramica o tutto ciò che può essere utile per far vivere il bambino all'interno della storia, nei luoghi della storia. Quindi non più in un'aula, ma un'aula all'aperto. Ecco, questo poi in effetti, essendo un formatore, è l'obiettivo primario di tutto. L'avventura non è il parco avventura che immaginano tutti, non ci sono percorsi aerei, non abbiamo ritenuto opportuno deturpare in questo modo quest'angolo, perché non ci sembrava idoneo. L'avventura è quella che viviamo quotidianamente, che faremo vivere ai nostri bambini, cercando di toglierli dalle stanze attraverso, appiccicati ai loro computer o ai loro giochi digitali e poter far vivere un'avventura a contatto con la natura. C'è un grande gioco, dei piccoli esploratori che faranno questo viaggio nel tempo, con degli indizi che verranno raccolti, abbiamo dato ad ogni attività un nome dedicato alla flora e alla fauna del territorio, ad esempio c'è il passo della volpe, il salto dello scoiattolo, il piccolo volo della tortora. Attraverso questo grande gioco i bambini impareranno a conoscere gli animali presenti nella Calabria e soprattutto impareranno a rispettarli e a capire se effettivamente è un territorio che può dare loro altro oltre che il mare e la montagna, semplicemente. Poi c'è il tiro con l'arco, stiamo stringendo delle collaborazioni con compagnie degli arcieri, abbiamo imparato tante cose nuove, anche noi della cooperativa, perché non è come aprire un'attività chiusa, aprire un parco è in effetti una responsabilità completamente diversa, quindi abbiamo dovuto prepararci, rivolgerci a chi capiva di queste cose, noi abbiamo appreso, assimilato, trasformato a seconda della nostra fantasia in qualcosa di fruibile rendendolo più vicino alle nostre competenze. Quindi tiro con l'arco, trekking, trekking leggero che partirà da questo punto fino ad andare per la fiumarella e anche oltre stiamo stringendo collaborazioni con l'ente Parco Pollino, e partner del progetto e attraverso le sue guide riusciremo quindi a creare dei pacchetti che possano essere proposti a tutte le agenzie turistiche, a chi fa questo lavoro sicuramente meglio di noi. Quindi oltre a queste attività verranno anche fatte delle attività in mountain bike, c'è l'opportunità di prendere, di noleggiare delle mountain bike qui sul luogo, c'è un piccolo boschetto dedicato ai più piccoli per la lettura creativa e animata di favole, quindi i bambini potranno ascoltare, ritornare ad avvicinarsi ai libri in un contesto diverso, e il teatro dei burattini, una piccola torretta di avvistamento che renderà loro, darà loro l'opportunità attraverso attrezzature come cannocchiali, come telescopi, renderà loro l'opportunità di visionare diversamente il cielo e la terra. Come si arriva al finanziamento del parco? Chi lo ha finanziato? A che cifra e soprattutto chi c'è dietro questo megaprogetto? Il progetto nasce grazie alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al Bando Giovani per la Valorizzazione del Territorio, al quale la Mondocultura Atena capofila, insieme e in ATS col Comune di Tortora, ha partecipato un paio di anni fa. La burocrazia ci ha portato fino a quest'anno, perché purtroppo sono stati tanti gli atti che abbiamo dovuto produrre per aprire regolarmente questa attività al pubblico. Il finanziamento al quale abbiamo avuto accesso è di circa 200 mila euro, cofinanziato sia dalla Mondocultura Atena che dal Comune di Tortora nel 10% ad entrambi gli enti. La maggior parte dei fondi sono andati per la formazione. Questo ci tengo a sottolinearlo perché, giustamente non presentando il progetto ancora in maniera ufficiale, anche se abbiamo fatto una start-up intermedia in cui abbiamo presentato un bilancio pubblico dei soldi, come sono stati spesi circa 4-5 mesi fa. La maggior parte, quindi il 60-70% del finanziamento è stato investito per la formazione di 40 giovani del territorio che hanno avuto l'opportunità di conoscere attraverso dei professionisti del settore tutte le tecniche e le competenze che potessero garantire loro un'attività di accompagnatori turistici, di persone responsabili di gruppi, accoglienza e quant'altro. La comunicazione è stata il nostro caposaldo in questo corso. Il resto è stato investito per tutte le strutture presenti in questo territorio, strutture completamente amovibili, quindi regolarmente distribuite su questo territorio, ma soprattutto abbiamo cercato di bonificare, non è stato semplice perché su questa parte del Palaecastro comunque non veniva messo in mano da tantissimi anni, quindi la bonifica è stata molto lunga e anch'io che non avevo idea di cosa volesse dire bonificare un terreno, ho avuto modo di imparare personalmente quanto tempo e quanti soldi ci vogliono. Abbiamo messo in sicurezza i percorsi che naturalmente erano già predisposti nelle aree, i terrazzamenti, e abbiamo cercato di dare un senso affinché i bambini e le famiglie possano usufruire giovialmente di questo luogo. Parte attiva di questo progetto è non solo perché ricade all'interno di Tortora l'ente comunale. Come sarà presente il comune e l'amministrazione in Parco Natura Avventura Archeo? Sarà presente come lo è stato fino ad oggi, con il massimo della disponibilità, in quanto il comune ha partecipato fin dai primi giorni per quanto riguarda questa realtà. Siamo molto soddisfatti per come è stata gestita, siamo molto soddisfatti per quanto riguarda l'esito finale dei programmi che avevamo pianificato. Orgogliosi perché questo è un finanziamento che è arrivato prima in Italia, quindi orgogliosi di chi ha preparato tutto e orgogliosi anche di noi stessi per aver creduto in questa zona, per aver creduto in questo parco.